Dopo mesi di attesa il governo con il nuovo esecutivo guidato da Matteo Renzi ha sciolto il nodo delle sorti di Ansaldo Breda del settore della produzione ferroviaria del nostro paese. In un incontro alla Roma il ministro dell'economia Pia Carlo Padoanne e quello dello sviluppo economico Federica Guidi hanno dato il via libera, dichiarando di condividerlo, al piano strategico di Finmeccanica, la holding della quale il tesoro è il principale azionista. Un piano che per usare i termini è ribadito da mesi da Finmeccanica prevede il deconsolidamento delle attività nei trasporti, ossia l'uscita dal settore. Per la holding un nuovo passo nelle dismissioni che segue la tappa a dicembre della cessione di Ansaldo Energia, passata al fondo strategico. Da parte sua Finmeccanica ha presentato, fattore che con la scelta del governo ha determinato una buona accoglienza dei mercati con il titolo salito in borsa, un bilancio chiuso nel 2013 con un utile netto a 74 milioni, dopo i profondi rossi registrati negli ultimi due anni. A 3 miliardi e 316 milioni di euro l'indebitamento netto del gruppo. La prospettiva per Ansaldo Breda è dunque un accordo di partnership con un operatore internazionale che assicuri il radicamento nel territorio, secondo le dichiarazioni rilasciate dopo l'incontro romano, e valorizzazione globale delle aziende e del settore trasporti. Il processo di vendita, secondo quanto sottolineato dalla Didifi e Meccanica Panza, potrà anche coinvolgere investitori istituzionali italiani. La prima presa di posizione a caldo da parte sindacale è stata della Wilm, l'organizzazione dei metalmeccanici della Wilm, con Giovanni Contento della Segreteria Nazionale, che ha parlato di responsabile e determinazione a eliminare un pezzo dell'industria nazionale fatto di capacità, risorse e conoscenza appetibili dai concorrenti stranieri, che con questo precedente si convinceranno a venire a fare shopping nel nostro paese a prezzi stracciati.